Atenzione! Quello è un soldato nemico! Where are you? La linea di morte! Cassetta medica per te! Passi per te! Quella è una contragnatricia nemica! Che cazzo! Cazzo mio...! Fantastico, grazie! Occhi aperti! C'è un ricognitore nemico! Ho localizzato un ricognitore! Ehi! Vedo un ricognitore nemico! Ehi! Vedo un ricognitore nemico! Vedo un ricognitore nemico! Ehi! Vedo un ricognitore nemico! È un momento di pensare! Carica! Cassetta medica! Arriva! Cassetta medica, rimettite in sesto. Cassetta medica, ecco. Grazie. Cassetta medica, eccola qua. Cassetta medica, ecco. Attenzione. Cassetta medica per te, amico. Una granata, attenzione. Ecco qui, Cassetta medica. Forza, con la Cassetta medica. Ecco, Cassetta medica. Ecco una Cassetta medica. Là c'è un assaltatore nemico. C'è un assaltatore nemico. Cassetta medica, ecco. C'è un assaltatore nemico. Di comp�io. Scubo. C'è un assaltatore passage. Eccolo! Là! Un ricognitore nemico! Assaltatore nemico! Facciamo attenzione! Quel ricognitore è uno dei loro! Forza con la cassetta medica! C'è un assaltatore! C'è un assaltatore nonché, nonché sia, nonché! C'è un assaltatore del compito! Frapposizzer madsenio, trapposizzer! C'è un assaltatore! C'è un assaltatore? Già, già, vittà! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!